Hans Florian Zimmer è un musicista e compositore tedesco, che però ormai vive da anni negli Stati Uniti. È a capo del Dipartimento Musicale dello Studio Cinematografico della DreamWorks, quindi mica niente. Le sue opere sono notevoli per l'integrazione di musica elettronica con sonorità tradizionali e arrangiamenti orchestrali. Ha vinto quattro Grammy Award, due Golden Globe su nove nomination, un classico Brit Award e un Oscar su nove nomination per le musiche e la colonna sonora del Re Leone della Disney del 1995. Molte sue colonne sonore sono usate spesso anche in programmi televisivi per la loro notevole orecchiabilità e despressività. Inoltre Zimmer è stato anche classificato nella lista dei top 100 geni di venti alla posizione numero 72, che tra l'altro condivide con John Williams, di cui avete sentito prima E.T. e Sabrina. Questa sera ascolteremo la colonna sonora di un film celeberrimo. Se vi dico, a nessuno arriva mai qualcosa che non sia in grado di sopportare? Non vi dice niente. Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Non vi dice molto. Ma se io vi dico, al mio segnale scatenate l'inferno! Eh! Buongiorno! Grazie. 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 Grazie.